Ma non è questione di poco o tanto in comune, ci sono alcuni temi più che sentiment li abbiamo in comune, altri è giusto che siano diversi, perché altrimenti per quale motivo un elettore dovrebbe votare Forza Italia piuttosto che Fratelli d'Italia se fossimo uguali e identici. Mentre proprio perché siamo differenti in molte cose, l'offerta elettorale della coalizione centrodestra permette all'elettore di scegliere un partito piuttosto che un altro all'interno però di una grande famiglia che è quella del centrodestra. Tornando se posso alla questione Conte della politica industriale, allora è vero che Conte ha detto da Landini che la politica industriale del governo è stata contraddittoria, faccio una parentesi, per me è stata totalmente sbagliata, ma vorrei ricordare che ci segue da casa perché purtroppo vorrei essere polemica, è che lo dice lo stesso Premier che c'era anche per questi 14 mesi, cioè non è che Conte non era nessuno in questi 14 mesi, aveva la possibilità di dire a Gigino Di Maio guarda che la tua politica industriale è totalmente sbagliata, non solo non lo ha fatto, mentre adesso evidentemente deve fare il palladino e deve dire che la politica industriale di Wirpul è stata sbagliata, quella che ha condotto il governo, non solo, ha pure promosso Luigi Di Maio a ministro degli esteri. Io francamente sono molto preoccupata, in generale per il paese, ma per gli lavoratori che avete incontrato, perché la politica industriale che serve a questo paese non sono degli strumenti a tempo, ma serve investire in modo sistematico, serve detassare al sud per esempio, perché altrimenti è ovvio che le aziende non ce la fanno e le localizzano. Conte ha detto che un piano per il sud è una sua priorità, però posso dire una cosa. Prima Senaldi e poi torna la Fedeli. Pietro, tra l'altro...